Vi dicevo, il diritto d'autore non è eterno, a un certo punto scade, e scade come? Scadono i diritti privativa, è il caso B, cioè l'opera in pubblico dominio vuol dire che non ha più nessun vincolo, esempio delle opere che hanno più di 70 anni dalla morte dell'autore, si calcola normalmente. Anche quando sono parlati di 70 anni ci possono essere fregature, non so se sapete cos'era successo con il diario di Anna Frank. Anna Frank è morta nel 45, quindi tu hai fatto così con la mano ma in realtà i 70 anni sono scaduti non tanto tempo fa, perché 45 più 70 era 2015 e si va al primo gennaio dell'anno successivo, cioè fai finire l'anno per essere sicuro che sono 70. Quindi ai primi di gennaio del 2016 iniziano a circolare in rete, soprattutto su Wikimedia Commons, versioni in lingua originale del diario di Anna Frank, come se fosse pubblico dominio, è finalmente libera, si può usare. Pochi giorni dopo la fondazione Frank manda in giro la lettera di diffida dicendo attenzione facciamo causa a tutti, ritirate dalla rete tutte queste copie perché non si possono diffondere. Dov'era la fregatura secondo voi? Cioè lei era morta a più di 70 anni, quindi il limite della durata dei diritti era scaduto, ma c'era una fregatura in cui, vabbè, uno che ha un minimo di... conosce la storia la conosce, quindi ci arriva, molti ci sono cascati. No, non era ancora vivo perché avrebbe avuto 120 anni, però era morto molto dopo. Cioè i 70 anni non dovevi contarli dalla morte di Anna Frank, ma dalla morte di Otto Frank, perché il padre aveva contribuito, cioè era coautore dell'opera sostanzialmente. Cioè noi lo chiamiamo il diario di Anna Frank perché racconta la storia di Anna Frank, ma non è scritto da Anna Frank, è scritto da Anna Frank e Otto Frank. E questa cosa chi conosce un po' la storia della famiglia la sa, perché buona parte delle storie raccontate sono state poi rimaneggiate e aggiunte dal padre, che è sopravvissuto, è morto nell'80, 1980, cioè un bel po' di anni dopo la persecuzione e i campi di concentramento. E quindi la fondazione Frank, che è l'ente che adesso tutela le opere della famiglia, ha detto no signori, scordate quello che l'opera sia pubblico dominio, mi facciamo un mazzo così, ci ha detto. Però ecco, l'opera può essere pubblico dominio anche in altre situazioni, ad esempio lo dice la legge a volte. Ci sono situazioni in cui, ad esempio, vedete, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni non hanno diritto d'autore, quindi un atto ufficiale è una sentenza del giudice, un testo di legge, la delibera del rettore dell'università Bicocca che chiude la Bicocca perché c'è la neve. quel testo lì è in pubblico dominio perché lui l'ha scritto in quanto atto ufficiale di una pubblica amministrazione, non è una sua poesia che ha scritto per sua moglie, ok, o per suo marito, adesso non mi ricordo il rettore o rettrice, rettrice, scusate, è vero. Ok, quindi, e poi c'è un terzo caso, che non riusciamo a fare bene però è interessante, cioè puoi anche rinunciare ai diritti. io se volessi rilasciare queste slide liberamente potrei farlo usando quello che si chiama il CC0 che è una sorta di licenza ma è di più di una licenza, cioè è più radicale come scelta perché io rinuncio ad esercitare i diritti, cioè quindi è come se fossi morto a più di 70 anni. È una battuta però, è come se io dicessi usate le mie slide come se fossi già morto a più di 70 anni, quindi diventano di pubblico dominio. E lo faccio aggiungendo questa nota che ha creato Creative Commons che si mette alla fine dell'opera. Però come dicevamo, il diritto d'autore funziona come vedete, con una regola che è questa qui, copyright, tutto tutelato, se non quando si arriva al pubblico dominio, ma poi c'è tutta una serie di sfumature di grigio intermedie. Cioè situazioni in cui io posso utilizzare liberamente l'opera anche quando l'opera è sotto tutela, perché se no non si vivrebbe. Cioè dovremmo sempre chiedere il permesso per qualsiasi cosa. E infatti la legge ha già stabilito una serie di, come dire, spiragli in cui ci si può muovere. Gli americani questa cosa la chiamano fair use, noi la chiamiamo, eccezione del diritto d'autore, o fair dealing. cioè opere che sono ancora sotto copyright e che possono essere liberamente utilizzate senza chiedere il permesso. Cioè non viene meno il diritto, viene meno l'obbligo a chiedere il permesso. Che sembra la stessa cosa, ma invece è molto diversa. Cioè sono delle aree franche, come dico qua nella slide, in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare. Qua ve l'ho messa tutte in elenco, cioè non si riesce, lo sapevo che era poco il tempo, comunque c'è stata una, diciamo, ne hanno scritte di nuove, tutte insieme con la direttiva del 2019. Nel 2019 è stata una direttiva europea che ha modificato il diritto d'autore in modo abbastanza importante e queste sono quelle, priva della direttiva del 2019, le più importanti e poi ce ne sono altrettante nuove figlie della direttiva del 2019 ma aggiunte in Italia nel 2021 perché c'è stato il periodo che è necessario per il legislatore italiano per recepire la direttiva. Quella che vi può interessare, beh, quando abbiamo fatto un seminario con il professor Mangiatordi in epoca Covid, se ti ricordi, abbiamo parlato di questa. Cioè per i portatori di handicap c'è tutta una serie di situazioni in cui il portatore di handicap può, in un certo senso, semplifico molto però, infischiarsi del diritto d'autore. Cioè può aggirare il diritto d'autore perché è l'unico modo che lui ha per poter fruire dell'opera. Ok? E abbiamo fatto, su quello vi rimando, c'è la registrazione di tutto il seminario sul mio canale YouTube e allora il portatore di handicap non vedente ha bisogno di fare l'audiolibro per leggere un libro e quindi cosa fa? Prende il file e lo dà in pasta a un software che lo trasforma in audiolibro. Questa attività qua sarebbe tecnicamente coperta dal diritto d'autore. Cioè tu dovresti chiedere il permesso perché stai facendo un'attività trasformativa che è coperta da diritti d'autore. Allora lui dice io sono cieco non ho altro modo per fruire il libro se la regola dice se non ci sono delle licenze che sul mercato mi consentono io lo posso fare per scopo personale e non ti devo chiedere il permesso perché per me è l'unico modo che ho però c'è tutto un decreto che spiega è lunga la materia però è interessante se ti occupi ovviamente la materia all'epoca sì era un seminario sull'accessibilità e su vabbè l'altro tema l'altro tema forte il professor Mangiatordi e quindi ne abbiamo parlato quella che io normalmente faccio vedere è questa cioè la citazione di opere il riassunto citazione riposizione di brani di opera a fini di insegnamento di ricerca scientifica o per uso di critica o di discussione cioè faccio una recensione a un libro classico esempio o a un film e riporto un pezzo del libro o un dialogo del film ma deve essere un estratto non posso riportare 40 pagine del libro perché se no non è più una recensione ma è una riproduzione oppure il riassunto lo posso fare il riassunto del libro per metterlo sul mio blog ma deve essere il riassunto e deve essere per scopo di critica di discussione cioè non deve essere buttato lì crudo ma ci deve essere la mia parte di aggiunta di commento o di critica e comunque non deve andare in concorrenza con l'utilizzo dell'opera cioè il riassunto non deve essere così dettagliato e così preciso che alla fine uno non se legge più il libro perché tanto gli ho già detto tutto io il mio riassunto è fatto così bene per cui il libro non compra più nessuno quello allora ecco c'è sempre stato questo fenomeno è che adesso girano su dei siti una volta giravano nelle biblioteche sotto banco nelle copisterie e li vissi passare cartacee stessa cosa identica finché è un fenomeno che rimane come dire amatoriale sotterraneo non danneggia nessuno se cominci a metterlo su delle piattaforme che hanno una grande visibilità e magari ci mettono pure la pubblicità le casettrici si incazzano cioè è normale e quindi ti fanno causa quindi questo è un esempio poi vabbè questa non la leggiamo se no non riusciamo a vivere e poi arriveremo alle licenze che sono l'ultima gamba dello schema e così chiudiamo velocemente cioè cosa fanno un po' gliele detto quando avete fatto i termini di uso di piattaforme cosa sono delle licenze cosa sono dei documenti che hanno queste due anime io dico cioè in una licenza trovate sempre due componenti uno è le libertà che la licenza ti dà cosa ti permette di fare e l'altro è le condizioni che la licenza ti richiede di rispettare ok se leggete anche quelle lì di queste piattaforme per le immagini tutte hanno questo schema diciamo standard ti consentono di fare queste cose a condizione che fai quest'altra a seconda che prevalgano o meno l'una o l'altra anima prevale la parte di condizioni imposte o la parte di libertà concesse noi parliamo di licenza open e licenza proprietaria e questo vale anche per le famose licenze open source il software open cioè il software perché è open sia perché hai disponibilità del codice sorgente quindi è un'openess tecnica cioè mi dai la possibilità di vedere come è fatto il software di modificarlo ma anche giuridica cioè il software cioè scusate la licenza che accompagna il software mi dà delle libertà cioè la parte di libertà concesse è più sostanziosa rispetto a quella dei vincoli provate a leggere la licenza di mac os adesso io sto usando il mac del prof se voi leggete la licenza quella di mac os che non legge nessuno se no è la prima volta che lo avvii perché è quella che ti compare e sei obbligato ad accettarla perché se no non parte il computer quando lo tiri fuori dalla scatola però provate a leggere quella è piena di vincoli cioè se questo mac cade si rompe e io ne ho uno identico non posso trasferire questa copia del sistema operativo sull'altro perché quando mi viene venduta la licenza dice che questa è vincolata a questo pezzo qua di metallo no che tecnicamente non è così necessario perché essendo software la licenza cioè il software lo posso tirare fuori e metterlo di là no quella copia lì di macOS è data per questo aggeggio qua se tu vuoi comprarne un altro ti compri un'altra licenza e quel vincolo è chiaramente un artificio giuridico perché tecnicamente sarebbe non sarebbe così necessario è fatto è un vincolo che ti viene dato per farti pagare in più la licenza le creative commos invece cosa fanno le creative commos sono quelle là cioè sono open e quindi sono le licenze per contenuti per opere digitali quindi testi fotografie grafiche musica che creano un vedete un sistema alcuni diritti riservati sì chi deve andare può andare io vado avanti cinque minuti ancora cioè creano sostanzialmente una sfumatura di grigio qua in mezzo tra i due estremi che abbiamo già visto il copyright è tutti i diritti riservati all rights reserved e il pubblico dominio che è il nessun diritto riservato cioè l'opera è libera puoi fare quel cavolo che vuoi ecco le creative commos creano una sfumatura grigia 50 sfumature di open è una battuta che mi portavo dietro adesso non fa più tanto ridere perché il film non è così famoso ormai è passato però all'epoca faceva un po' ridere in realtà non sono 50 sfumature sono 6 più una perché una l'abbiamo già vista una è cc0 cioè è quel pubblico dominio artificiale che abbiamo già spiegato prima poi ci sono le le secretive commos attribution attribution shallalike attribution no deriva vedete più scendo e più diventano restrittive cioè questa è la più libera cioè fai quello che vuoi della mia opera basta che citi che sono io l'autore punto tutto è una delle più libere sotto c'è quella più libera un po' meno libera ma comunque molto libera che è quella di wikipedia wikipedia è libera perché è libera wikipedia non perché è gratis ragazzi si dice la enciclopedia è libera non perché non pago nulla perché anche il sito di tre cani è gratis non si paga nulla per andare a cercare sia su tre cani o su britannica quello che vuoi è il fatto che che questa c'è una licenza libera una licenza che ti dà delle libertà che è un attribution shallalike quindi sostanzialmente questa ribaltatela cioè no è come se fosse ribaltata così la più libera di qua e man mano mi avvicino andando di qua verso il grigio questa è una infografica che non ho fatto io ma è molto bella secondo me io ho solamente fatto la traduzione italiana che vi spiega a seconda della licenza che trovate cioè io trovo un'immagine che ha una cc by nd e non ho capito bene che cavolo vuol dire perché non ho seguito il corso di Alibrandi allora vado di qua e guardo se posso fare o se non posso fare e questa è la prova veramente di bambino di terza media nel senso che qua leggo cosa posso fare qua c'è spiegato e qua c'è la croce o la B sentirete parlare e con questo chiudiamo la parte sull'intelligenza artificiale la diamo per fatta sentirete parlare di open access open access altro non è che soprattutto se qualcuno va a finire a lavorare nel mondo delle biblioteche o degli enti di ricerca open access altro non è che questo modello open che abbiamo descritto applicato alla letteratura scientifica alla produzione di materiale scientifico quindi paper di ricerca articoli per riviste saggi monografie quelle che servono a quelli come il professore Maggiatori per fare i concorsi cioè le pubblicazioni che hanno una qualità come dire un processo di verifica della loro bontà anche dal punto di vista proprio scientifico peer review e via dicendo per cui ti da ti qualifica come scienziato all'interno di una certa comunità e se tu vuoi fare questa roba con un approccio open allora ti devi rifare ai principi del cosiddetto movimento open access che sono condensati nella cosiddetta dichiarazione di Berlino che è una sorta di manifesto di questo movimento vi dico solo due robe sulla sull'intelligenza artificiale abbiamo già detto sostanzialmente che il grosso ecco quello lì è il libro che Andrea mi ha già citato prima che si chiama l'autore artificiale ovviamente il mio titolo era una provocazione perché l'autore non può essere artificiale per definizione però abbiamo qualcosa che gli assomiglia molto il punto di crisi è questo cioè il fatto che le cose create con l'intelligenza artificiale mi raccomando non si dice non si dovrebbe dire mai dall'intelligenza artificiale create con l'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale che si svegliano la mattina e che creano opere al momento non mi risultano esistere poi vedremo per adesso no ok il problema qual è che pian piano si stiamo riempiendo stiamo riempiendo il mondo di opere che non sono più distinguibili da quelle umane perché prima lui mi ha detto eh ma beh la faccia l'ha fatta sciolta è vero ma fra qualche anno impareranno a fare le facce a fare le scritte le mani hanno imparato a farle vi ricordate che uno dei primi sintomi qualche mese fa erano le mani e ci sono sei dita oppure c'è il pollice che non è un pollice è un altro indice no ma dategli tempo quattro mesi dategli tempo imparerà a fare anche quello e saremo davvero immersi in un mondo in cui la creazione totalmente umana e totalmente artificiale non sarà più così facilmente distinguibile ma la mia domanda è ma non è che già prima eravamo cioè già prima l'autore umano era molto connesso con la macchina cioè non è che la tecnologia già era diventata componente come dire imprescindibile della creatività due anni fa tre anni fa cinque anni fa no voi quando fate una foto col cellulare pensate di farla voi o c'è un'applicazione che vi schiarisce tutto vi mette a posto le cose anche allora se la mettiamo su questo piano anche con anche con intelligenza artificiale c'è una mente umana che gli dice il prompt che gli dice e che sceglie se quello cioè il risultato quando lui abbiamo fatto la locandina lui me l'ha mandata io avrei potuto dirgli no non mi piace farne un'altra e lui deve rifarla sono d'accordo però sentite questa storia qua così la chiudiamo questo è 1882 e questa è una foto di Oscar Wilde famosa che ha portato a una causa che è una delle sentenze più importanti del copyright dell'ottocento ok perché cosa è successo qui c'era uno stampatore litografic che pubblicava un la faccio breve pubblicava un periodico un giornale con dentro racconti anche di Oscar Wilde lui a un certo punto ha detto ma vorrei una foto da mettere nel mio periodico trova una foto di Oscar Wilde molto bella la prende e la mette nel periodico ne fa una copia cioè ne stampa copie massive Saroni che è il fotografo fa causa dice ma come ma tu non mi dici nulla io sono quello che ha scattato la foto cosa risponde secondo voi Barrow scusami sì però cioè per difendersi hanno detto una cosa strana che si collega molto col discorso che stiamo facendo adesso sull'intelligenza artificiale esattamente era il 1800 cioè capito 140 anni fa si dicevano le stesse cose che senti dire adesso non l'hai fatto e guarda la frase corretta è la fotografia è un mero processo meccanico cioè chiunque fosse stato seduto lì dietro avrebbe schiacciato il bottone allo stesso modo che l'hai fatto tu quindi che cacchio vuoi no? cioè non è che adesso sei qua hai messo solamente una macchina e schiacciato un bottone no? Barrow dice la fotografia è un mero processo meccanico non un'arte e quindi non incarna un'idea creativa quindi Saroni che cacchio vuoi? perché vuoi un diritto d'autore? perché? ma perché all'epoca la fotografia non era nata lì perché la fotografia sappiamo che è nata qualche decennio prima però non era ancora stata elevata a forma d'arte adesso c'è vai a Palazzo Reale a Milano c'è sempre una mostra di fotografia oltre alla mostra di pittura perché per noi è normale considerare la fotografia come una forma di creazione e di arte all'epoca no era una cosa nuova però vedete che ci ha provato lo stampatore a dire ma che cosa stai dicendo tu non hai creato nulla hai schiacciato un bottone ma è esattamente la critica che si fa adesso a tutti i cosiddetti AI artist cioè coloro che creano attraverso il sistema di intelligenza artificiale la corte a chi dà ragione? dà ragione a Saroni ecco perché è una sentenza storica perché da lì la fotografia è stata inserita nel computo delle opere tutelate dal diritto d'autore dal copyright perché qua siamo gli Stati Uniti quindi cosa dice la corte? che Saroni ha realizzato l'immagine ponendo Oscar Wilde davanti alla macchina fotografica selezionando disponendo il costume i tendaggi e gli vari accessori disponendo il soggetto in modo da presentare contorni aggraziati impostando la luce e l'ombra suggerendo ed evocando l'espressione desiderata ed è grazie a tale disposizione preparazione e rappresentazione che ha prodotto l'immagine quindi col cacchio hai schiacciato solamente un bottone ma hai fatto un'attività creativa possiamo star qua a discutere per sei ore e non lo facciamo perché è tardi se dare un prompt all'intelligenza artificiale equivalga a scattare una foto come ha fatto Saroni oppure se è una cosa che può fare anche una scimmia o meno però io vi faccio notare l'immagine della copertina del mio libro adesso la vana non ce l'abbiamo dovrei zoomare questa vediamo se lo fa ah sì questa immagine vediamo se riesco senza fare danni si vede un po' quell'immagine l'ho fatta io non ho schiacciato un bottone l'ha fatta un AI artist Paolo Dalprato che è un ex fotografo cioè è un fotografo ancora adesso fa anche fotografia ma adesso si sta spostando sulla creatività artificiale voi pensate che io sarei stato in grado davvero di fare una cosa così solamente schiacciando un bottone io non ho le competenze per fare quella roba lì però probabilmente avrei tratto fuori comunque qualcosa mi sarei messo lì a smanettare un'immagine per la copertina la tiravamo fuori come l'abbiamo tirata fuori per la locandina avevamo un po' di fretta sabato ho detto ascolta prova con l'intelligenza artificiale l'abbiamo fatta per la locandina del seminario ci andava bene quello se fosse stata una cosa un po' più importante probabilmente ci saremmo sbattuti di più ci saremmo telefonati ascolta ma che colori mettiamo ma come lo vuoi il soggetto ma lo vuoi con un qua c'è stato un lavoro di interlocuzione tra l'uomo e la macchina che ha portato ad un risultato di questo tipo poi tu puoi dirmi non mi piace puoi dirmi ma non puoi dire che non è creativo no no c'è gente che mi ha detto che è una cagata c'è gente che mi ha detto ah quella roba lì se l'avessi disegnata io a mano soprattutto i disegnatori se la pigliano male su sta cosa beh ma io ho studiato 14 anni all'accademia d'arte te la facevo molto meglio di così e vabbè ok ma io non avevo 2000 euro da darti per la grafica ho avuto una persona che si è offerta me l'ha fatto che non ci ha messo tanto meno tempo cioè semplicemente ha usato un giro diverso e ha un risultato è arrivato un risultato che per me per l'editore erano assolutamente soddisfacenti proprio questo per dire è che se dietro quella sedia ci fosse stato io non avremmo avuto quel risultato lì quindi vedete che c'è un livello di creatività poi possiamo stare qua a discutere che non sia sufficiente che non sia no artisticamente qualificato quello che volete il resto ragazzi ve lo faccio scoprire da soli sulle slide e basta grazie se volete seguirmi mi trovate su tutti i social e su tutte le tv private anche di notte vendo i quadri tipo grazie 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 mille Simone Liprandi per il seminario che mi sembra abbia colto nel segno anche dei vostri interessi e delle vostre curiosità